Il suo rapporto con Napoli e con i napoletani in generale? Ma guarda, è un rapporto senza riuscire a niente, è un rapporto quotidiano che ho con la mia città, io ci vivo e vivo con anche la gente. Cioè, sto a casa, il suo rapporto giovane con Napoli, non mi interessa la camorra, questo non mi interessa, sono frammenti di un viaggio che ci stanno facendo tutti quanti. Ma nel Napoli, tu devi essere un napoletano, ti devi sentire una parte di Napoli, un angolo di Napoli, cioè un pezzo di Napoli. E con i napoletani devi avere un rapporto, si può stare bene con i napoletani, per esempio, devi essere uno che devi sorridere. Nel Napoletano non si portano a gente che faccia peso.